Indice dei contenuti cosa può fare un investigatore privato? Come scegliere un investigatore privato? Costo investigatore privato? Quali fattori bisogna considerare? Tabella dei costi quanto costa un investigatore privato al giorno? Quanto costa un investigatore privato per una settimana? Come risparmiare e investire per potertelo permettere? Conclusioni domande frequenti sono diverse le ragioni che possono rendere necessario un investigatore privato che può far luce con professionalità e competenze su vicende familiari, commerciali, lavorative, che possono avere anche rilevanza nell'ambito di un processo. Conoscere il costo di un investigatore privato è importante prima di conferire l'incarico, così da programmare bene le spese e valutare se ne vale la pena. Quali sono le voci di spesa che incidono sui costi di un'investigazione privata? Questa è un'altra domanda chiave a cui si dovrà dare risposta, così da comprendere quali sono le variabili in gioco. Costo di un investigatore privato? Tabella iniziale sai quanto paghi per i tuoi investimenti? Il controllo dei costi dovrebbe essere al centro della tua strategia di investimento. Scopri di più quanto costa un investigatore privato? Il costo va da 30 a 90 euro l'ora per ogni investigatore quali fattori incidono sulla spesa? Durata dell'investigazione e numero di investigatori coinvolti come scegliere un investigatore privato? Sulla base delle tariffe e dell'esperienza come potersi permettere la spesa dell'investigatore privato? Con la pianificazione e il risparmio cosa può fare un investigatore privato? Quando si pensa ad un investigatore privato, vengono in mente i classici pedinamenti che hanno lo scopo di acquisire le prove di un'infedeltà coniugale. In realtà la casistica dell'investigazione privata è molto più ampia e le indagini possono comprendere ambiti che vanno al di là della sfera familiare. Spesso le indagini hanno lo scopo di acquisire delle prove documentali, multimediali e fotografiche che possono essere usate in giudizio. Per quanto riguarda le indagini familiari, si può trattare di processi che riguardano l'affidamento dei minori, l'assegno di mantenimento o una contesa che riguarda l'eredità. Sono molto comuni anche le indagini in ambito aziendale e commerciale, che si rendono necessarie per sospetta falsa malattia, spionaggio industriale, concorrenza sleale o furti in azienda. Le frodi assicurative possono rendere necessari i servizi di un investigatore privato, ad esempio nella cause per risarcimenti sul lavoro o responsabilità professionale. Anche gli avvocati si avvalgono spesso di indagini investigative private per conto dei propri assistiti, allo scopo di acquisire prove da utilizzare in giudizio. Come scegliere un investigatore privato? La scelta dell'investigatore privato non va lasciata al caso, soprattutto quando gli interessi in gioco sono molto importanti. Lasciarsi guidare solo dalla convenienza del tarifario sarebbe quindi un errore grossolano, perché questo approccio non tiene conto dell'esperienza sul campo. Le agenzie di investigazione non sono tutte uguali, infatti alcune lavorano solo a livello locale, mentre altre hanno sedi in tutta Italia e nel mondo. È importante che l'incarico sia affidato a persone che conoscono bene la normativa sulla privacy e la procedura penale e civile, perché nella maggior parte i casi le prove acquisiste dovranno essere valide anche in ambito processuale. Costo investigatore privato. Quali fattori bisogna considerare? Il costo dell'investigatore privato dipende da molti fattori, ma la buona notizia è che il tarifario è sempre trasparente. Ogni agenzia di investigazione deve depositare il proprio tarifario presso la prefettura regionale di competenza, che deve preventivamente approvarlo. Trattandosi di tarifari orari, la durata dell'investigazione è una delle variabili più importanti. I costi cambiano a seconda del numero di investigatori e operatori coinvolti nell'indagine, dalla necessità di trasferte oppure di un fascicolo informativo finale. Tabella dei costi. Quanto costa un investigatore privato al giorno? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo distinguere le varie tipologie di investigazione, perché il tarifario è sensibilmente diverso. Investigazioni private, commerciali, aziendali, assicurative le investigazioni in ambiti privati e familiari sono tra le più richieste. E i costi partono da un minimo di 30 euro ad un massimo di 90 euro. Il costo medio è di 60 euro l'ora, per ogni agente investigativo coinvolto. Le indagini commerciali sono le più semplici, perché spesso si tratta solo di una ricerca di tipo documentale, che richiede un minor dispendio di energie e risorse. In questi casi il costo orario è di circa 30 euro 45 all'ora per ogni operatore. Per le indagini aziendali i costi sono in media di 60 euro l'ora per ogni investigatore impegnato nelle attività di indagine. Se invece si tratta di indagini di tipo assicurativo, il costo orario per ogni operatore coinvolto è di circa 30 euro 45. Riassumiamo tutte queste casistiche in una tabella, con i relativi costi orari. Costo orario di un investigatore privato, a persona. Investigazioni private circa 60 euro. Investigazioni aziendali circa 60 euro. Investigazioni commerciali circa 30-45 euro. Non è corretto domandarsi quanto costa un investigatore privato al giorno, perché come abbiamo visto il tariffario è orario. Nell'arco della giornata l'investigatore o l'operatore incaricato può essere impegnato per una sola ora oppure per diverse ore, a seconda della necessità e della particolarità dell'indagine. Ogni agenzia investigativa offre ai potenziali clienti un colloquio preliminare, che serve per raccogliere le informazioni sul caso e redigere un preventivo. In base all'esperienza acquisita negli anni, l'agenzia di investigazione sarà in grado di stimare il numero di ore e di giorni necessari. All'indagine, così il potenziale cliente può farsi un'idea della spesa complessiva. Quanto costa un investigatore privato per una settimana? Per conoscere quanto costa un investigatore privato per una settimana, è necessario conoscere il numero di ore che vedranno impegnato l'investigatore o l'operatore incaricato. Anche in questo caso si potrà fare riferimento al preventivo fornito dall'agenzia, nel quale viene indicato con buona approssimazione il tempo necessario per concludere l'indagine e quindi i costi complessivi dell'operazione investigativa. Come risparmiare e investire per potertelo permettere? Visto che il costo dell'investigatore privato è fissato su base oraria, è chiaro che le indagini più lunghe e complesse possono avere dei costi abbastanza elevati. Si pensi, ad esempio, alla necessità di indagini, pedinamenti e ricerche documentali che si protraggono per diverse settimane o mesi. Come affrontare queste spese se non si possiede il budget necessario? Risparmiare e accantonare delle somme di denaro con cadenza periodica, può essere un buon modo per racimolare il capitale necessario per le investigazioni. Per raggiungere l'obiettivo è fondamentale essere disciplinati, magari con l'aiuto di un piano di accumulo di capitale conveniente e flessibile tramite il supporto dei consulenti finanziari indipendenti di Monifarm. Con un'attenta pianificazione finanziaria si possono raggiungere anche gli obiettivi più ambiziosi. Conclusioni Sapere quanto costa un investigatore privato è il primo passo per pianificare un'attività investigativa che potrebbe dare una svolta ad un processo in corso. È una spesa imprescindibile quando gli interessi in gioco sono importanti, quindi è bene conoscere le tariffe orarie e i preventivi dei professionisti del settore. Con queste informazioni si può quindi quantificare la spesa da affrontare, in modo che diventi l'obiettivo di piano di accumulo. Che si tratti di un'indagine investigativa o di un'altra spesa imprevista, avere dei risparmi su cui contare permette di affrontare il futuro incerto con più serenità. Non è mai troppo tardi per iniziare a risparmiare e investire, così si può utilizzare il fattore tempo come una leva. Domande frequenti Qual è il costo di un investigatore privato? Il costo dell'investigatore privato è fissato su base oraria e si calcola per ogni investigatore ed operatore coinvolto. In genere il costo orario va da 30 a 90 euro l'ora, IVA esclusa, mentre il costo medio è di 60 euro l'ora, ma può variare a seconda. Delle attività di investigazione Cosa può fare un investigatore privato? L'investigatore privato aiuta il cliente ad ottenere delle informazioni e a provare determinati fatti o eventi, che si possono poi dimostrare nell'ambito di un processo. Le investigazioni possono riguardare la sfera privata, lavorativa, aziendale, commerciale e assicurativa. Quali fattori incidono sul costo dell'investigatore privato? La durata dell'investigazione privata è il fattore che più di tutti incide sulla spesa complessiva, ma anche il numero di operatori coinvolti è una variabile importante. I costi crescono quando è necessario impiegare più mezzi e risorse, oppure in caso di trasferte da parte dell'investigatore incaricato. Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti alla variabilità del mercato e possono determinare la perdita, in tutto o in parte, del capitale inizialmente investito.